Rapinarono dopo aver aggredito anche con una cinghia borchiata un ragazzo che aspettava il treno nella stazione a Barletta. Due uomini, il 39enne Giuseppe Francesco Aiello e il 35enne Antonio Mascolo, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati dalla polizia poiché ritenuti responsabili dell'episodio avvenuto lo scorso 17 luglio. Quella notte nel sottopassaggio che conduce dalla stazione ferroviaria di Barletta al binario delle ferrovie Bari Nord, un giovane andriese che attendeva il treno per tornare a casa fu aggredito e derubato. Dopo essersi avvicinati al ragazzo, i due rapinatori gli chiesero di consegnare loro qualche moneta e al suo diniego, con brutale violenza, dicono gli investigatori, lo picchiarono con pugni e calci, colpendolo anche con una cinghia munita di borchiata e per poi darsi alla fuga. Il giovane riportò lesioni con prognosi di 15 giorni. Subito dopo l'accaduto, i poliziotti della squadra volante del commissariato hanno visionato le immagini di videosorveglianza dello scalo ferroviario, hanno ricostruito gli eventi, hanno identificato i responsabili. Questi rintracciati e arrestati si trovano attualmente in carcere su disposizione della magistratura tranese.